Fere, sono un po' spaventato, soprattutto da quello in bassa destra, sembra uno di quei mostri davvero davvero temibili Cioè, è uno scherzo Sono un po' preoccupato Cioè, è uno scherzo? No, cosa hai pensato? Allora, ci sono tutti i grandissimi, i cattivi, i storici, dei film, dei videogiochi, eccetera, eccetera E c'è il più temibile lì, il capo dei capi, il mostro dei mostri Non ha senso, Steph, perché c'è la mia faccia lì? Perché non hai messo qualcun altro che fa davvero porre a che centro? Perché mi hai fatto questo? Lo sai Allora, tutti gli esseri temono più a te che a tutti gli altri Non è vero Io temo più a te che a tutti gli altri Non hai le prove di queste cattivere che stai dicendo Quindi, secondo me, è più che corretto In ogni caso Dai, Steph, perché? Non ridere, ok? Non fanno ridere queste robe A me fanno ridere Va bene? No, non fanno ridere È un video serio questo Eh, lo so, lo so, lo so Infatti ti volevo parlare del problema che è accaduto Hai fatto caso che sei degli otto personaggi Quindi tolto a te e tolto a Freddy, ok? Ok Gli altri sei personaggi sono gli stessi che abbiamo incontrato nella prigione di Minecraft Eh, sì, certo che mi ricordo Ok A quanto pare, da quello che ho capito, sono evasi di prigione Ok E noi dicono di che eravamo andati a farli visita in modo tale che poi non ci disturbassero Beh, dopo che abbiamo speso le guardie è stato anche facile, sicuramente vale Esatto, infatti quello è stato un errore dei calcoli Eh Ce l'avevo pensato è stato un po' una scemenza E quindi a quanto pare, anche se noi siamo andati a farli visita, ci vogliono perseguitare Eh, e quindi dobbiamo andare Soprattutto quello in basso a destra Come mai? Per tutta la vita, no? A dell'astio Steph, no, è una cosa terribile questa che hai fatto Cioè non c'entravo niente Tu ovviamente sarai l'ultima Prima visiteremo la stanza di tutti Ma scusa, volevo essere la prima E tu sarai l'ultima Tutti i vari cattivi E tu sarai l'ottavo cattivo Non sono un cattivo Sì che lo sei No, non lo sono Sì che lo sei, lo sappiamo tutti Consolini, sarete tutti d'accordo com'è Allora, da chi vuoi partire? Non c'è nessuno d'accordo qui Partiamo da Slenderman Sì, dai Secondo me ci sta Allora Che bisogna fare? Non so bene come funziona Ma credo che sia una sorta di Tipo di portone Con le loro immagini Però in realtà noi ci possiamo entrare dentro Ok Una roba del genere Quindi teoricamente se tu fai così Dovresti poter entrare Ferre, 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 Ferre Uè, 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 uè Io non vedo È uscito fuori, Steph Ti stai inseguendo Sì Ferre, non vedo nulla Ma che ti ha fatto? A quanto pare ti rende cieco se ti colpisce Oh cavolo Allora, usa l'arco Per fortuna abbiamo anche un arco Sembra lento Quindi teniamo la distanza No, vabbè, se vuoi Dagli un abbraccio Tanto siete cattivi a entrambi Vedi, a me non fa nulla L'ho steso, Steph Era un po' debole Quindi continuiamo a vedere Che c'era qui dentro Eh beh, sì Ormai sono curioso Ok Che buio che è sto posto però Eh vabbè, ci sta È la sua foresta Con le pagine, giustamente È super buio Insomma Una lampadina te la potevi anche mettere, caro mio Comunque interessante Bisogna stare attenti Perché era molto lento Però quando mi ha attaccato Mi ha reso cieco per un sacco di tempo Fussitato da solo Avrei avuto difficoltà A me non ha preso, Steph Ovviamente Perché sono suo alleato Quindi visto che ormai mi ci hai messo Ah, quindi allora lo stai mettendo? No, certo Visto che mi ci hai messo Ne trago vantaggio, Steph Quindi prego per il prossimo Ok, allora Slenderina Però vedo una scritta verde Quindi potrebbe essere pacifica Ciao Oh cavolo, Steph Beh, i miei figli sono vicini Perché sono familiari E ci sta Mamma mia Comunque io te lo dico in confidenza, Steph È proprio bruttina, vero? È sempre la peggiore Eh, lo so La più spaventosa, sinceramente Però Fede, non è colpa sua C'è nata così, capito? Ah, ci parli e ti fa Boo Beh, non è cambiata dalla prigione No, che poi ci è nata Secondo me ci è morta Così comunque No, Fede Un'entità viva, Steph Ma dai, ma che è come tranquilla Vabbè, comunque anche Qualche rotella è un po' andata Perché due volte le incontriamo Due volte ci dice solo Boo Beh, evidentemente Le piace spaventare le persone E basta E ucciderle, ovviamente Perché non penso che faccia Cose buone Essendo uno spirito cattivo A me, finché non mi picchiano Va bene E il discorso è che Jason La scorsa volta Era stato piuttosto aggressivo E quindi io Ok Sinceramente Penso di volerlo fare dopo Voglio vedere se riesco a sbirciare Prima di entrare Non fa Non fa È anti-sbirciamento Ho notato, ho notato Sei com'è Guarda qua cosa vedi Se ti avvicini Perché ho la scritta rossa, Steph? Indovina Perché ho la No, io l'ho scritta verde Allora, vieni qua Teoricamente qui c'è un passaggio segreto Esatto Per andare nella parte di sopra Ma siamo sopra? Esatto Stai attento perché siamo sopra Nei blocchi invisibili non sono troppi Qui c'è Granny Qui ci sono due Due blocchi Ok, ok Andiamo da Granny Buongiorno Eh, ma è rossa pure lei, Steph È un po' arrabbiata Eh, sembra tranquilla però Magari non ci vede Io mi sono accomodata, Steph Ciao Perché? Ci ho provato Sembra tranquilla Vero? Forse ha finito di Oh cavolo No Oh cavolo No Ho una spada e non ho paura di usarla, Granny Ah, è iniziato Ho usato un cefano Per, per, per Che cavolo Non ci credo Non ci credo, per, non hai capito nulla Scendi veloce Cos'è successo? Scendi veloce Cos'è successo? Non credo ci possa seguire Praticamente Quando ti attacca ti fa venire fame No Sì Maledetta Ti stavo facendo morire di fame Sì, però dobbiamo andare a sconfiggerla, Steph Ormai Scusi I cavoli si sconfiggono È forte, eh Sì, però Fanno comodo le cobweb Quindi abbiamo risalto abbastanza facilmente Ovviamente Dove si è ora? Vendri da Baldi Ok, dato che ci siamo È buono o cattivo? No, è cattivo Sono tutti cattivi Mi sa che abbiamo già sbagliato l'interrogazione, allora Aspetta Come sempre qua funziona così No, 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 no È forte, Steph Cavolo, è fortissimo Sei pazzo, è fortissimo Mi ha dato due cefoni Con la bacchetta Mi ha distrutto Due a uno? Due Due? Due, con uno ti togli a metà vita Ok Mi sa che è il momento di mangiarsi una mela d'oro, Steph Ho notato che mi nota poco Sì Vediamo Vabbè, io mi sono seduta nel banco Ero proprio di fronte a lui, quindi Ok Ce lo gestiamo bene Esatto Ce la contè Non ti ho fatto nulla io Ce la contè Ok che andavo male in matematica a scuola Però non è giusta Lo sa lui, lo sa Io ero bravo Infatti guarda, non mi attacca Steph, aiutami No, io sono bravo Oh, ma che Finalmente Steph, è fortissimo Ce l'hai fatta? No, mi sono nascosta in un angolo Aspetta, ti salvo, ti salvo, ti salvo Ti teletrasporto qua È pazzo sto qua Ok, allora Ho un'idea Io ho mangiato la mela d'oro, Steph Non è servita una ceppa Affacciati Vieni anche te l'affacciati Aspetta, aspetta Mi mangio la seconda Arco e frecce E lo devastiamo a distanza Ok, vai Ok Baldi, quanto fa 2 più 2? Ah, quant'è che fa Baldi? 4, come le frecce che ti tiro in faccia E le tue domande assurde Quante è che fanno di risposta? Ah Ecco qua Ah, è finita per Baldi Abbiamo conquistato la scuola Esatto Esatto, esatto, esatto Ok, allora Il prossimo Che abbiamo? Abbiamo Hit Abbiamo Freddy Ah, Hit sembra tranquillo Probabilmente ci vorrà vendere un altro poloncino C'erano blocchi lì, scusami Che hai fatto? Sono cascata di sotto camminando dritta Non so perché Perché sei un sasso Ok Ok A dirte la gentile Ciao per bambino Lo vuoi un palloncino? No No Allora Aspetta, io non ci posso parlare Ah no, sì Ciao per bambino Lo vuoi un palloncino? Certo che sei mille No, non mi sembri molto affidabile Io direi di no, Steph Cioè, se gli dici di sì Ti cattura Prova a dire di no Se ci sono passata anche io Ma come? Non mi ero reso conto Va bene Va bene Ma perché? Ma perché? Proviamo a dirgli di sì Ma cosa fa? Ma 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 muori Pagliaccio schifoso Sì, voglio un palloncino Fede Basta Vedi Ogni tanto Dalle persone Basta Accettare i loro doni Lui voleva soltanto essere gentile Non accetto, Steph, che mi abbia ucciso Perché non lo posso uccidere il mortale, Steph? Di rifiutare Che bellino che sei Mamma mia, è incredibile Andiamo Andiamo, ce ne ti prego Oggi abbiamo imparato una bella lezione Allora, Freddy sembra nervoso Da Freddy non so cosa aspettarmi Perché non l'abbiamo mai incontrato nella prigione Ehi Non è una versione proprio carina di Freddy Porca miseria Perè Oh, 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 Steph Aspetta, aspetta, studialo Sembra lento, siamo calmi Ok Oddio, che brutta faccia Mamma mia, sei terribile Ma gli hanno fatto qualcosa di brutto Sì, è proprio Però, è accelerato Perché è accelerato? Aiuto, Steph, aiuto No, Steph, mi sta dando nausea Cioè, è matto Nausea? Sì Io l'affronto Ok Faccia a faccia Non vale che Fere Qua è il cattivo più assoluto Ma che siamo pazzi Allora, sopra abbiamo finito Eh sì, infatti Perché c'è la tua torna Non lo so Dove dobbiamo andare da Jason? Jason Allora Io prendo le precauzioni per Jason Io parto da qua Dai, ormai Posso attaccarlo? Dimmi se colpisco il poster O se va attraverso? Hai rotto il poster Ops Cioè, sei una persona terribile E mo? E mo? Si combate Ma come si rimette? Ma è lì per terra? Se non lo so rimettere Allora, Jason, calmati Ok Che abbiamo fatto vedere a tutti la tua base Però sta un attimino Ah sì, tu, aiuto Allora, Steph Fa una ghigliottina sto qua A me sembrava una tenda Ma una ghigliottina È una tenda ed è una ghigliottina Ma come fai a confonderti? Non lo so, perché c'è molto buio qui dentro Non lo so, Fer Prova ad avvicinarti Io ti copro da lontano Ma sembra tranquillo come Granny Mi sembra un po' agitato, eh Dici? Poi ci sono ste ragnatele che continuano A me invece sembra di rilassertissimo Jason, qui Perché lo devi attaccare te? Per combattere Ma sai che forse si è calmato? Vabbè C'è l'ho dato anche la sua ascia Grazie 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 Ma No No, no Fer, 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 Fer 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 No, voglio vedere se torna in vita Che succede Steph, non iniziare Fer, io non voglio vedere Jason che torna in vita Sì, voglio vedere che succede Quindi inizio Ecco È tornato No, è arrabbiato Ecco Se torna in vita si arrabbia No, Jason, dai, non uscire Ecco, ecco Non ce l'ha bisogno Ecco Ti ho già fatto fuori Era andato tutto bene Ti ho già fatto fuori, basta Ok che tu sei mortale perché sei già mezzo morto Però, basta E ma quindi Eppure lento Oh, ma che ti picchi con l'ascia Bene Allora, fatemi tappare qua Tanto teoricamente non dovrebbe tornare in vita nel punto in cui è morto Ma dovrebbe tornare in vita nel punto in cui lui nasce Quindi teoricamente se tappo tutto qua Dovremmo essere a posto Controlliamo un attimo per sicurezza che non si sa mai Cioè se torna in vita qua io ti spacco la faccia, Fer Perché vuoi da me Ok Allora, già Ciao, Jason Ciao, Jason Ok, siamo arrivati al momento migliore, Steph Al cattivo più formidabile di tutti Che tutti conoscono nel mondo Posso distruggere il poster? No Dai, voglio vedere cosa c'è No, Steph, dai, no Perché devi distbellino Allora, vedi Sbircio Ferinichi was slain by Ferinichi, ok? E non davvero cosa è successo? Ma, sbaglio non si può entrare da dove si vuole Io sono entrata da qui Aspetta, con calma Sei rilassata? Non mi sembra Cavolo, Steph, è fortissima Sei rilassata è impossibile È psicopatica, Steph E tu lo dici? È pieno di giocattoli lì dentro Lo sapevo Lo sapevo, raga Ma ci sono le bambole Come nella realtà Che io le mie due bambole assassine Sono uguali Allora, proviamo a tirarla Vieni Sono un po' creepy Calmati Che paura Ok È lenta È lenta No, Steph, io non l'attacco Cioè, mi dispiace Steph Per niente No, per Oh Oh Non ti puoi leare Ok, se ne va Se ne va Che è sta storia? Ferinichi, abbiamo sconfitto tutti i cattivi Dobbiamo sconfiggere anche lei No Sì No Sì La stanza è bella Piene di giocattoli Il mio ideale di vita Cioè Vedi allora che sei una vera cattiva Ti stai inquietando di sconfiggere l'ultimo dei cattivi Porca miseria Steph Cosa è successo? Di nuovo? Cioè, secondo me non le hanno dato il caffè stamattina Perché c'è solo quella Quella motivazione Cioè, mi fa scendere un colpo Perché te lo fa all'improvviso Quando non te l'aspetti È che io volevo vedere bene la stanza Visto che c'è il maialino Che mi piacciono i maialini Due bambole Che io ho esattamente due bambole da collezione Che diventeranno tantissime Ma Steph non me lo permetterà mai Adesso si arrabbia I palloncini Steph! Almeno così vedi la stanza I cube, i palloncini Sì, tutte cose che mi piacciono Guarda, le bambole c'è da dire che sono tanto creepy quanto le mie, no? Nella realtà Quindi mi sembra che è giusta come rappresentazione Steph! Mi hai fatto anche cadere la spada Pere Pere, non è una buona idea Steph, vai via Smettila Pere Smirata con l'arco Smettila Appunto, lo sappiamo entrambi Quindi ti tengo a distanza e ti anniento Ok? Steph, ti distruggo Lascia in pace il mio Non mangiare la mela Sì, che la mangio Lascia Steph, hai rotto le scatole La smetti? Sei tu cattivo qua Che vuoi? È arrabbiatissima Sto saltando Guarda, sì Sì, perché stai attaccando Ma l'hai uccisa, vero? No, però vedo Sta facendo lampeggiare Le figure degli altri Guarda Ogni tanto lampeggiano Io non le ho viste ancora lampeggiare Ci sono i fulmini Secondo me Steph Ti stanno volendo le allucinazioni No, no, no È il potere del tuo cattivo Vabbè, allora Io faccio che mi allontano Rimarrà un Un cattivo in giro Per colpa di Pere Perché decide di fare favoritismi Prima poi ci farà amicizia Steph Prima poi ci farà amicizia Mi è stato ucciso già tre volte Quindi, ne dubito Vivamente In ogni caso Ci fermiamo così Spero di non avere più a che fare Con la prigione E con questi tizi qua Perché non li sopporto più Sinceramente In nessun modo possibile Qua sotto compariranno Altri video Iscriviti al canale Campanellina E ci vediamo Nel prossimo video Ciao ciao